Tifosi bianco e celesti ben ritrovati con Entella Time, il notiziario per non perdersi nulla di tutto ciò che accade nel mondo Entella. Due giorni al prossimo appuntamento di campionato, sabato si torna a giocare al Comunale alle 17.30, affronteremo il Ponte Nera, sono in vendita i biglietti per assistere al match sul nostro sito www.entella.it, all'Entella Point che sarà aperto nella giornata di domani, sabato invece i biglietti li potrete acquistare nella biglietteria dello stadio. Sabato sarà una giornata importante sia per la prima squadra che affronta il Ponte Nera ma anche per la primavera che dopo la sosta per le nazionali tornerà in campo allo stadio Angelo Daneri alle 11.30, affronteremo in casa la Regina, la partita sarà trasmessa come sempre in streaming sulla nostra pagina Facebook e sul canale YouTube Entella Tube, l'Entella primavera allenata da Mr. Menucci che sta facendo un ottimo campionato e che in questo momento è quarta in classifica nel proprio girone. Sta per finire il mese di marzo e quindi come ogni mese vi chiediamo di eleggere quello che secondo voi è stato il gol più bello di quest'ultimo mese. State vedendo in sovraimpressione i quattro gol candidati, potete votare il gol preferito nelle nostre storie di Instagram e Facebook e sulla nostra app ufficiale domani verrà eletto il gol più bello del mese di marzo. Entella Time come sempre torna domani puntuale all'ora 19. Grazie a tutti.